Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video Allora, in questo video voglio giocare un pochettino con voi Come potete vedere qua ho il telefono e il cellulare Perché praticamente il gioco che farò non è per niente semplice Perché magari chi mi conosce un po' di più sa rispondere Però magari se siete nuovi nel canale è un po' più complicato Praticamente in questo gioco io vi dirò due verità e una bugia E voi dovete indovinare qual è la bugia Iniziamo con la prima parte Sono stata vittima di bullismo Da solo 11 anni ho partecipato ad una sfilata di moda Da piccola sono andata in Argentina a trovare i miei parenti Iniziamo con la seconda parte A 17 anni ho fatto una vacanza studio in Inghilterra A 19 anni sono stata picchiata da alcuni malviventi A 13 anni presi una torta alla caviglia Andiamo con la terza parte A scuola sono stata bocciata due volte Sono stata vittima di violenze La mia prima volta all'estero risale a quando avevo 16 anni Andiamo con la quarta parte A scuola nonostante fare i sforzi non sono riuscita a diplomarmi Ho viaggiato molto, sono autodidatta Andiamo con la quinta parte Sono una ragazza estremamente insicura A 3 anni mi sono rotta una gamba A 19 anni mi chiedi a negare Andiamo con la sesta e ultima parte Frequento un corso di pittura Ho la fobia per gli insetti Adoro le arti marziali Ragazzi, adesso sta a voi rispondere E indovinare in ogni spazio che vi ho elencato Qual è la bugia di me E quindi buona fortuna Scrivete qui sotto nei commenti Tutte le bugie che voi avete individuato Grazie a tutti